Per te che sei sempre attenta a ciò che parte in tavola, Todis, la spesa di qualità a prezzi convenienti. Con i suoi reparti freschi, Todis garanzia di bontà e genuinità. Macelleria, salumeria, gastronomia, ortofrutta e un vasto assortimento di prodotti bio senza glutine, senza lattosio, vegani e vegetariani. Fino al 12 dicembre, parmigiano reggiano DOP 1,15€ letto, tonno in olio di semi, confezione da 4, 1,79€, polpa di pomodoro 400g 29 centesimi, bracciola di agnello 8,30€ al chilo, patatine al forno surgelate 99 centesimi, grana padano DOP 6,50€ al chilo, grana padano grattugiato 89 centesimi letto. A Salerno, in via Roberto Volpe, zona Sant'Eustachio, a Nocera Inferiore, via Nicola Bruni Grimaldi 37, nei pressi della stazione ferroviaria.